Il decalogo del condominio Riciclone è la prima iniziativa concreta che nasce dalla collaborazione tra Anaci, Lecco e Silea S.p.A. In questi giorni attraverso gli amministratori condominali sono stati affissi nei condomini della provincia manifesti che suggeriscono una serie di comportamenti virtuosi per gettare i rifiuti nel sacco giusto. Vogliamo dare un concreto supporto all'aumento della raccolta differenziata, spiega il presidente di Anaci, Lecco, Marco Bandini. Più raccolta differenziata significa meno rifiuti da indirizzare al termovalorizzatore e in prospettiva ci auguriamo anche una riduzione dei costi dell'Atari. A Monte vi è un processo di cultura ambientale che ci sentiamo la responsabilità di diffondere tra i nostri condomini e poi comportamenti virtuosi evitano anche le multe. È un'iniziativa concreta di collaborazione, aggiunge il presidente di Silea S.p.A. Mauro Colombo, un semplice gesto che dimostra un grande senso civico e che insieme all'attività di sensibilizzazione che già sviluppiamo, ci auguriamo possa davvero contribuire a migliorare ulteriormente le performance della raccolta differenziata. Il Decalogo invita a rispettare i giorni orari di raccolta previsti, ad usare i sacchi di colore conforme alla tipologia di raccolta, ad utilizzare il sacco trasparente per la frazione residuale indifferenziata, ad inserire nel sacco viola i rifiuti puliti e ad impiegare per la frazione organica, umido, sacchi biodegradabili e compostabili. Inoltre si ricorda di non spezzettare la carta, di svuotare e schiacciare gli imballaggi prima di buttarli, di non buttare insieme al vetro tappi, coperchi in metallo e bicchieri, di usare contenitori rigidi per conferire il vetro e non cartone o sacchetti e di lasciare aperti i cancelli condominali dalle 6 alle 13 per il ritiro nei giorni stabiliti.